Musica Sassano, sabato scorso la cittadinanza onoraria a Franco Roberti Autostrada A3, torna l'incubo pedaggio, per il ministero è necessario per finanziare la strada statale ionica Teggiano, aperte le porte al museo Lapidario di Anenze, ieri l'inaugurazione alla presenza del vescomo Monsignor De Luca Teggiano, grande successo per l'edizione 2016 della pisatura Prato Perillo, promosso dall'associazione Ascam Sala Consilina, Massimo Manzolillo e Ivan Robilotta a Santa Sofia per il raduno di Campro Buongiorno e benvenuti al nostro telegiornale Sabato scorso a Sassano, durante il Consiglio Comunale, è stata conferita la cittadinanza onoraria al capo della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Franco Roberti Sabato scorso a Sassano, presso la villa comunale intitolata Paolo Borsellino si è tenuto il Consiglio Comunale alla presenza del capo della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Franco Roberti a cui è stata conferita sia la benemerenza nel ricordo di Paolo Borsellino che la cittadinanza onoraria il Consiglio è stato preceduto da un momento di preghiera e raccoglimento durante il quale è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime di mafia e terrorismo così come chiesto da Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro ogni anno Sassano riconosce la cittadinanza onoraria a personalità di spicco nella lotta alla criminalità organizzata quest'anno quindi a Franco Roberti, la cui presenza è stata particolarmente significativa in un momento in cui a seguito di un'indagine partita da Catanzaro si riscoprono infiltrazioni mafiose nel Vallo di Diano nel suo discorso il dottor Roberti ha manifestato la vicinanza al nostro territorio ma ha parlato soprattutto di mafie ricordando il contributo di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone ha sottolineato che la mafia oggi non è più quella di una volta a differenza dell'andrangheta che invece resta ancora molto forte perché per troppo tempo è stata sottovalutata in generale il suo è stato un discorso di speranza e positività evidenziando che lo Stato c'è e raggiunge risultati importanti nella lotta alle organizzazioni criminali non poteva mancare il riferimento alla globalizzazione, al terrorismo fenomeni interconnessi con le mafie e che le alimentano e le favoriscono la nota positiva è che in questo particolare momento storico proprio secondo le parole del capo della Procura Nazionale Antimafia il nostro Paese si scopre un passo avanti rispetto agli altri in quanto soprattutto grazie a Falcone e Borsellino ha una cultura del coordinamento che è necessaria nel contesto strettamente nazionale ma che si rivela fondamentale nel contrasto al terrorismo lo Stato sabato era presente, c'era parlava di una realtà di periferia molte e troppe volte lasciata a se stessa o a subire decisioni prese da lontano nella totale mancanza di volontà o di forza da parte di chi invece dovrebbe difenderla è stato un segnale di speranza di cui avevamo bisogno E a Sassano sabato scorso erano presenti moltissime autorità politiche, militari e religiose ascoltiamo le interviste questo premio e questo riconoscimento mi onora doppiamente innanzitutto perché la cittadinanza onoreale di Sassano è un riconoscimento importante e poi perché nel nome di Paolo Borsellino che è un modello, un punto di riferimento per tutti non solo per i magistrati per tutti gli italiani onesti che vogliono vivere nella legalità e nel rispetto della giustizia La situazione naturalmente come sappiamo è in qualche modo in larga misura condizionata alla presenza di bande camorristiche che sono state fronteggiate credo adeguatamente negli ultimi 20 anni tant'è che sono stati conseguiti risultati giudiziali senza precedenti sia sul piano personale che sul piano patrimoniale contro le organizzazioni di camorra Questo territorio in particolare è un territorio per fortuna in parte immune in gran parte immune da infiltrazioni camorristiche ma comunque è un territorio che deve essere sempre mantenuto sotto attenzione perché il rischio è sempre presente quindi la soppressione per esempio del tribunale di Sala Consilina è stato un fatto che noi abbiamo denunciato come negativo a suo tempo e continuiamo a ritenere negativo ci conforta però che la presenza delle forze dell'ordine è molto attiva, molto efficace, molto continua e dunque questo rappresenta in qualche modo una garanzia L'anno scorso ho avuto l'onore di ricevere la stessa benemerenza credo che quest'anno sia stata indicata proprio la persona giusta il collega Roberti per storia personale, per capacità professionali sicuramente la persona credo più idonea a ricevere un premio intitolato alla memoria di Paolo Borsellino per cui sono assolutamente motivato nel venire a salutare un caro amico quale ritengo sia il collega Roberti e mi compiaccio veramente di questa iniziativa dell'amministrazione comunale di Sassano La legalità è un tema centrale soprattutto la presenza qui oggi del dottore Roberti e la presenza dello Stato in territorio anche come il nostro che tante volte sono stati mortificati, sono stati messi in ginocchio ma territori che non si sono mai spezzati e che hanno reagito sempre con dignità ed è esattamente quella dignità che oggi ci rende tutti orgogliosi di avere qui una delle figure istituzionali certamente più importanti nel nostro paese uno straordinario esempio di persona coraggiosa ma una persona che ha soprattutto un grande senso delle istituzioni colui il quale ha fatto della sua vita la missione per la lotta alle mafie e d'altra parte i risultati lo dimostrano la presenza del capo della procura nazionale antimafia e antiterrorismo in un momento tra l'altro anche così delicato che vive il paese e le varie situazioni internazionali beh veramente è un motivo per noi di grande gioia ma soprattutto di grande emozione e di grande orgoglio un momento istituzionale che ci spinge a vivere con impegno e serietà quel percorso verso la legalità che garantisce a ciascuno di noi, alle nostre famiglie, ai nostri giovani la prospettiva di un futuro vivibile una giornata molto importante che trova una significativa risposta tra le autorità istituzionali presenti le persone presenti e un riconoscimento assolutamente significativo in un posto che è stato dedicato a uno straordinario rappresentante dello Stato una bellissima iniziativa valuta dal comune di Sassano dal sindaco Tommaso Pellegrino e dall'interico civico consesso perché innanzitutto in questa direzione è importante oggi conferire questa benemerenza ad un servitore dello Stato di grande valore come il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti che con la sua presenza qui stasera onora Sassano il Vallo di Diano, l'intera provincia di Salerno che ha dato prova di sé come magistrato di grande valore nelle sue diverse tappe professionali anche la guida della Procura Repubblica di Salerno e che sta imprimendo una direzione particolarmente efficace operativa e di grande rilievo nella guida della direzione nazionale antimafia è un simbolo del nostro paese Paolo Borsellino ha segnato un momento alla storia dell'Italia per tanti di noi perché in quegli anni chi iniziava come me per esempio gli studi di giusprudenza si ispirava a quel modello di eroe umano che però aveva segnato un pezzo importante della storia lasciando un messaggio di grande forza con le sue parole, con le sue testimonianze in un momento anche di grande debolezza del paese e oggi anche questo riconoscimento a chi lotta contro la mafia nella posizione più alta nella posizione istituzionale più importante credo che sia una bella testimonianza che il sindaco Pellegrina che questa comunità ha voluto offrire servono fondi per finanziare la strada statale ionica nel tratto calabrese e servono circa 10 miliardi una necessità a cui si pensa di far fronte attraverso l'istituzione del pedaggio autostradale sulla A3 Salerno Reggio Calabria torna allo spettro del pedaggio autostradale sulla A3 Salerno Reggio Calabria secondo le notizie diffuse dei quotidiani questa mattina ed in particolare con l'analisi di Il Mattino nonostante la scarsa propensione manifestata nel passato dall'ANAS a dare il via ai caselle autostradali per il pedaggio dal Ministero per le Infrastrutture pare vi sia la volontà, percepita come necessaria di intervenire in tal senso dalle notizie apparse sul quotidiano si legge che il pagamento del pedaggio sulla Salerno Reggio Calabria rappresenta l'unica possibilità per reperire i fondi da poter reinvestire sulla strada statale ionica 106 che attraversando la Basilicata porta in Puglia secondo quanto si apprende il costo dell'opera supera i 10 miliardi per questi motivi al fine di reperire le necessarie risorse dovrà essere proprio l'autostrada A3 a sopperire a questa necessità attraverso il pedaggio pare che l'idea partita dal sottosegretario del Basso De Caro sia al momento ancora in fase embrionale anche se il progetto potrebbe a breve essere sottoposto ai vertici dell'ANAS per una valutazione il progetto secondo quanto emerge vorrebbe dare il consenso all'ANAS gestore dell'autostrada per il pagamento del pedaggio a patto che una parte del ricavato sia vincolato per l'utilizzo per la costruzione dell'otto calabrese della Ionica nonostante soltanto pochi mesi fa il numero 1 di ANAS aveva avuto modo di ribadire che la A3 non avrebbe potuto essere considerata autostrada a pagamento visti i livelli di traffico che non consentirebbero di coprire il costo dell'opera ora si pensa addirittura ad un ricavo tale da consentire anche di investire parte dei fondi per la realizzazione di un'altra opera che necessita di rivisitazione essendo stato in passato teatro di numerosi incidenti stradali resta alto il pericolo legato alla presenza di cinghiali nell'area del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni a San Mauro Cilento la scorsa notte un uomo a bordo della sua auto si è scontrato con un cinghiale che aveva invaso improvvisamente la carreggiata l'uomo immediatamente soccorso è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Vallo della Lucania in gravi condizioni ma non in pericolo di vita si tratta del secondo episodio avvenuto nel giro di poche settimane cambiamo argomento l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea potrebbe ridisegnare il quadro economico del territorio salernitano con ripercussioni sulle esportazioni in particolare nel settore agricolo e alimentare vediamo secondo l'ultimo studio della Camera di Commercio di Salerno denominato rapporto tra Gran Bretagna ed economia salernitana sono 184 i cittadini del Regno Unito alla guida di imprese insediate nel territorio salernitano imprese che nel 58% dei casi sono costituite da almeno 10 addetti e registrano fatturati superiori ai 2 milioni di euro il rapporto della Camera di Commercio evidenzia una forte presenza di interessi dunque che legano il tessuto economico dell'intera provincia al Regno Unito dai dati emerge che su 184 imprenditori soltanto il 25% gestisce l'impresa nella quale opera mentre il restante 75% ha affidato la gestione a terzi e se gli spostamenti di capitali dalla Gran Bretagna all'Italia diventassero più costose questo 75% di imprenditori potrebbe decidere di calare le sale cinesche ma il vero problema riguarda l'export che incide per 325 milioni di euro un valore pari al 2% dell'economia provinciale con i settori agricoli e alimentari maggiormente coinvolti con il primo che esporta prodotti per un valore di 25 milioni di euro mentre il secondo per un valore di 263 milioni di euro più in generale lo scorso anno il 15% delle esportazioni del settore delle conserve vegetali hanno raggiunto il Regno Unito il cui fatturato per un terzo è generato dalle esportazioni di legumi e ortaggi mentre per due terzi dalle conserve di pomodori proprio quest'ultimo comparto, quello della trasformazione del pomodoro ricopre un ruolo centrale nevralgico nella provincia di Salerno e in Europa esporta il 70% della produzione la Brexit, il relativo indebolimento della sterlina e la futura istituzione di dazi doganali potrebbe avere ripercussioni sulle aziende del comparto ripercussioni che, secondo l'Associazione Nazionale Industriale di Conserve Alimentari e Vegetali non dovrebbero toccare alla luce del basso livello dei prezzi al scaffale e alla qualità del prodotto ma interesserebbe invece l'esportazione di legumi e vegetali conservati a vantaggio delle aziende inglesi che operano nel settore L'alimentazione mediterranea e la nutraceutica il ruolo del caseario e l'intolleranza al lattosio è il titolo dell'incontro dibattito che si terrà mercoledì 27 alle ore 21 in occasione dell'apertura della quindicesima edizione della festa del Caciocavallo sassanese L'evento vedrà gli interventi del sindaco di Sassano e presidente del Parco Nazionale Cilento Vallodidiano Alburni Tommaso Pellegrino del presidente dell'Associazione Imprenditori Vallodidiano Valentino Di Brizzi del presidente dell'Associazione Sani dottor Riccardo Marmo e delle dottoresse Roberta Vigne e Marilena Di Miele nutrizioniste Andiamo avanti Da Bruxelles arriva un pacchetto anticrisi da 500 milioni di euro a favore dei settori lattiero caseari, delle carni e dell'ortofrutta Vediamo Si è tenuto nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea La Commissione Europea ha lanciato un nuovo pacchetto di aiuti per affrontare la crisi nei settori lattiero caseari, delle carni e dell'ortofrutta così come richiesto dall'Italia insieme con Francia, Germania e Spagna E' stato stabilito dunque un nuovo intervento dai 500 milioni di euro complessivi 150 milioni andranno a finanziare a livello europeo la programmazione produttiva volontaria per contenere la produzione e arrestare il calo dei prezzi alla stalla Tale misura sarà attiva da settembre 350 milioni invece sono stanziati per azioni più flessibili a livello nazionale e all'Italia verranno destinati 21 milioni che potrà utilizzare per sostenere regimi di qualità, incentivare gli allevamenti al pascolo introdurre misure di supporto al credito favorire l'aggregazione e la cooperazione tra allevatori E' stata inoltre presa un'altra decisione più volte sollecitata dall'Italia cioè per il comparto ortofrutticolo è stato stabilito un aumento dei prezzi di ritiro di mercato Oltre a ciò per venire incontro alle esigenze degli agricoltori gli anticipi dei premi PAC vengono aumentati dal 50 al 70% il che potrebbe rappresentare un'ulteriore boccata di ossigeno per le aziende Stando alle parole del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio Martina l'Italia ha chiesto che siano inserite tra le misure ammesse anche la distribuzione gratuita di alimenti agli indigenti e la possibilità di sperimentare nuovi strumenti di gestione del rischio più vicini alle esigenze delle imprese Il bosco serve vivo, non mandiamolo in fumo è lo slogan della campagna con cui la comunità montana Vallo di Viano ha annunciato l'attivazione a partire dallo scorso fine settimana del servizio antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Viano Dalle 7 alle 20 i cittadini possono effettuare segnalazioni al numero verde 800 016 512 che resterà attivo fino al prossimo 30 settembre Andiamo avanti Ieri pomeriggio a Teggiano è stato inaugurato il museo lapidario di Anense alla presenza di diverse autorità Per noi c'era Pietro Cusati che ha raccolto le parole di Marco Ambrogi direttore del museo diocesano di Monsignor Antonio De Luca vescovo della diocesi di Teggiano Policastro di Don Giuseppe Puppo parroco della cattedrale di Teggiano di Michele Di Candia sindaco di Teggiano di Rosa Carafa funzionaria di zona della soprintendenza archeologica Bellearte e Paisaggio di Salerno e dello storico Arturo Didier Vediamo Il museo in effetti è un raddoppio del museo diocesano per cui abbiamo esposto opere che vanno dalla Romanità al 700 quindi coprono un arco di 18 secoli ci sono delle opere particolari che forse neanche i tegianesi ricordano tra cui per esempio l'arco dei Malavolta e diciamo il museo raccoglie più di 50 opere per cui è un assortimento molto importante e permette poi l'accesso anche alla cripta di Santa Venera per cui è un percorso museale e anche suggestivo Quando è possibile visitarlo? Allora il museo è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 La raccolta di tutte le lapidi significative dispersi un po' sul territorio ci permette di renderle tutte visivamente e immediatamente fruibili è anche un antidoto a eventuali dispersioni, a trafugamenti custodendo le antiche lapidi che abbiamo rinvenuto sul nostro territorio questo ci consente di mettere a disposizione di chi fa una ricerca ma anche di quelli che vogliono semplicemente gustare la bellezza di una storia del passato guardare, ammirare e custodire Siamo contenti di consegnare alla città di Teggiano un nuovo gioiello il secondo polo museale dopo il, almeno ecclesiastico dopo il museo diocesano questo splendido lapidario che raccoglie lapidi ed elementi lapidei dall'epoca romana in poi Penso che oggi il circuito l'abbiamo chiuso perché nei miei dieci anni precedenti con Don Anciolo Spinillo completammo insieme alla sovrintendenza con la collaborazione dell'ingegnere Miccio il completamento delle chiese che furono tutte ristaurate tant'è che puntammo anche sul finanziamento della Santissima Pietà che oggi la stiamo completando con altro finanziamento anche perché noi abbiamo un turismo religioso e quindi avendo un turismo religioso l'amministrazione comunale ha sempre collaborato con la chiesa e rafforzeremo sempre di più questa collaborazione è chiaro che il lapidarium quello che adesso stiamo vedendo documenta una stratificazione di civiltà i romani, i sanseverino una grande famiglia che è inciso notevolmente sulla realtà quindi una stratificazione di civiltà di altissimo livello è una cosa importantissima perché si deve conservare per il futuro non solo i grandi monumenti, le chiese, i castelli eccetera ma anche i frammenti perché anche i frammenti, gli archi, gli stemmi sono testimonianze di storia di civiltà da fine agosto agli inizi di ottobre 15 studenti saranno impegnati nella valorizzazione del sito archeologico di Montepruno grazie all'accordo stipulato tra l'Università Federico II di Napoli il Comune di Roscinio e la Banca Montepruno è stato siglato nei giorni scorsi presso il Comune di Roscinio un accordo operativo di collaborazione scientifica per l'esecuzione di ricerca presso il Parco archeologico di Roscinio-Montepruno l'accordo è stato stipulato dal Comune rappresentato dal Sindaco Pino Palmieri dal Centro Interdipartimentale di Studi per la Magna Grecia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II rappresentato dalla professoressa Bianca Ferrara e la BCC Montepruno di Roscinio e Laurino rappresentata dalla Direttore Generale Michele Albanese oggi abbiamo raggiunto un altro risultato le prime parole a caldo del Sindaco Palmieri firmata la convenzione con l'Università Federico II di Napoli e la BCC Montepruno di Roscinio per l'apertura della Scuola Scavo a Roscinio dall'ultima settimana di agosto al 2 ottobre 15 ragazzi provenienti da Università italiane ed estere saranno impegnati nella valorizzazione del sito archeologico di Montepruno Montepruno ha commentato a margine della firma il Direttore Generale della Banca Montepruno Michele Albanese rappresenta le radici di Roscinio oltre che il luogo dal quale trae origine il nome della nostra banca la presenza e l'attenzione dell'Università Federico II ci inorgoglisce e non potevamo far mancare la nostra vicinanza all'amministrazione comunale di Roscinio per la nascita di questo ambizioso progetto questa azione mira non solo a riscoprire e valorizzare il patrimonio presente sul Montepruno ma punta, concludo Albanese ad inserire Roscinio e quindi anche Roscinio Vecchia in un progetto più ampio dove la Scuola Scavo diventi un volano per sviluppare un vero e proprio circuito di marketing territoriale l'accordo ha una durata di 5 anni e le attività di scavo avranno una durata di minimo 6 settimane all'anno e adesso diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale si sono svolte lo scorso giovedì 21 luglio a Bello Sguardo le celebrazioni per i 202 anni dell'arma dei carabinieri e il 130esimo anniversario dell'Associazione Nazionale Carabinieri che raccoglie al suo interno anche i carabinieri in concedo la manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri di sezione di Bello Sguardo Giovedì scorso a Bello Sguardo doppia festa celebrativa per l'arma dei carabinieri a 202 anni dalla costituzione dell'arma e a 130 anni dalla costituzione della prima associazione dei carabinieri in concedo l'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Bello Sguardo ha voluto dedicare un intero pomeriggio di festa per la celebrazione dei due anniversari la festa è stata anche occasione per rafforzare il legame tra Vallo di Diano e Alburni infatti alle celebrazioni erano presenti anche autorità militari e religiose del Vallo di Diano l'evento ha avuto inizio alle ore 18 con il corteo verso piazza dottor Albino Morrone dove si è tenuta la celebrazione della Santa Messa ufficiata da Don Gabriele Petroccelli collaboratore del cappellano della legione carabinieri di Campania assistito nella funzione religiosa da Don Carmine Tropiano e da Don Nicola Coiro la Santa Messa si è conclusa con la recita della preghiera alla Virgo Fidelis Santa Patrona dell'Arma e a seguire il corteo si è spostato presso il monumento dei caduti e salvo d'acquisto per la deposizione della corona di fiori con il silenzio militare fuori ordinanza suonato dalla fanfara dei bersaglieri generale Antonio Scrimieri che ha accompagnato le celebrazioni tante le autorità soprattutto militari presenti all'incontro organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Bello Sguardo oltre al vice sindaco di Bello Sguardo Peppino Troncone e al presidente dell'ANC di Bello Sguardo il maresciallo Ireneo Scardino erano presenti anche il coordinatore provinciale dottor Francesco De Luca di Melpigliano il capitano Adriano Ciancio presidente del comitato per le cerimonie dei grandi eventi il tenente Gaetano Ragano comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Sala Consilina e Massimo De Masi vice comandante del comando provinciale di Salerno lo scorso fine settimana Prato Perillo di Teggiano è stato protagonista della riavocazione della fase della pisatura del grano tantissima la partecipazione si è rivelato un grande successo l'evento organizzato dall'Associazione Culturale ASCAM preseduta da Carmine Marino e che nei giorni 22 23 e 24 luglio ha raccolto tantissime persone a Prato Perillo di Teggiano prima per assistere alla rappresentazione di scene di vita contadina di una volta e poi per la degustazione di un menù con specialità tipiche locali il fine settimana appena trascorso ha quindi fatto rivivere un pezzo importante della tradizione e della vita di una volta con la Pisatura 2016 un evento che è servito per far comprendere ai giovani come nel Vallo di Diano si viveva e ci si riuniva quando il lavoro e la fatica univa e diventava festa e divertimento la trebbiatura cioè la pisatura era uno di quei momenti le famiglie del paese si riunivano durante la stagione della raccolta del grano e poi ancora per la trebbiatura cioè il momento in cui i chicchi di grano venivano separati dalle spighe braccia di uomini e donne che insieme si aiutavano l'un l'altro nei diversi campi di proprietà in quei momenti oltre al lavoro c'era anche la festa il cibo e gli incontri l'associazione Ascam ha cercato attraverso la rappresentazione traterale proprio di ricreare quell'atmosfera farla conoscere alle giovani generazioni e farla rivivere agli anziani e vista la grande partecipazione sono riusciti brillantemente nell'intento abbiamo pensato di fare questa manifestazione per far ricordare ai nostri anziani nonni come per far ricordare loro e poi per far conoscere ai giovani i metodi andichi di lavorazione del grano abbiamo preparato l'aria dove vengono messe le gregne poi passano i buoi che fanno cadere il chicco di grano le gregne venivano tagliate a mano venivano raccolte in fasci e poi venivano pestate dai buoi dai muli dai cavalli queste erano le fasi originali prima dell'invenzione delle macchine questa manifestazione nasce soprattutto per creare qualcosa qui a Prato Perillo perché è l'unica parte di Teggiano dove non si fa niente siamo principalmente io e mio padre costitutori dell'associazione nasce nata l'anno scorso proprio per creare questo evento cerchiamo vogliamo realizzare del teatro cercare provare perché ci proviamo e vedremo se ci riusciremo ci sono tante persone che ci aiutano giovani creiamo aggregazione questo è il nostro intendo e far rivivere un po' questa frazione che purtroppo non ha manifestazione ad accompagnare le serate di festa e divertimento Agostino Lacava e la sua band che hanno fatto divertire il pubblico dopo la rappresentazione teatrale infatti Agostino Lacava ha accompagnato la degustazione delle specialità culinarie con la sua musica che ha coinvolto e fatto ballare i partecipanti alla festa la festa della patata rossa di montagna organizzata in collaborazione con la banca Montepruno e il patrocino della città di Padula giunge alla nona edizione si potrà godere di specialità gastronomiche musica e tanto divertimento nel borgo di Sant'Eligio dal 17 al 19 agosto e andiamo avanti siamo pronti ad accogliere tutti nel migliore dei modi queste le parole del presidente della prologo di Teggiano Biagio Matera nel presentare l'evento alla tavola della principessa Costanza in programma dall'11 al 13 agosto Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti fissi del panorama degli eventi del Vallo di Diano e più in generale della regione Campania stiamo parlando della tavola della principessa Costanza che si terrà a Teggiano dall'11 al 13 agosto prossimo anche quest'anno nel corso della rievocazione della visita nello stato di Diano nel 1480 di Antonello Sanseverino principe di Salerno e signore di Diano e della sua sposa Costanza figlia di Federico da Montefeltro saranno tantissime le iniziative in programma ci sarà il consueto assalto al castello ma la vera novità è il palio delle contrade di Teggiano che si sfideranno per la conquista del premio finale si attendono decine di migliaia di turisti provenienti da ogni parte d'Italia che potranno assistere a tutti gli eventi in programma ai tantissimi spettacoli itineranti nonché potranno degustare le specialità tipiche presso le varie taverne che rappresentano vere e proprie delizie per tutti i palati ma per tutti sarà anche l'occasione per visitare uno dei luoghi più caratteristici della provincia di Salerno con il suo castello medievale le sue straordinarie chiese i caratteristici vicoli e la sua capacità di accogliere i turisti siamo pronti dichiara il neopresidente della Proloco di Teggiano l'avvocato Biagio Matera la nostra manifestazione ormai è diventata un punto di riferimento costante per tantissime persone che anche quest'anno siamo già organizzati per accoglierle nel migliore dei modi anche per gli arbitri è partita ufficialmente la fase di preparazione promossa dall'Associazione Italiana Arbitri per le categorie A, B e Lega Pro anche gli arbitri della sezione di Sala Consilina sono impegnati in questi raduni sabato scorso sono partiti Massimo Vanzolillo e Ivan Robilotta per il raduno di Campro a seguire partita a mano e Robilotta per prepararsi a suo debutto in Campi partita la preparazione per gli arbitri di Campro e tra i 77 arbitri e 81 assistenti giunti a Santa Sofia in provincia di Forlice Sena erano presenti anche Massimo Manzolillo e Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina entra quindi nel vivo la stagione calcistica 2016-2017 con la preparazione in vista del campionato non soltanto per i giocatori e le squadre ma anche per i direttori di gara sabato scorso presso il Centro Tecnico Sport Italia gli arbitri e assistenti provenienti dalle diverse sezioni AIA distribuite su tutta l'Italia si sono riuniti per una 5 giorni di intenso lavoro fatto di allenamenti e riunioni tecniche all'arrivo sabato scorso visite mediche per tutti i partecipanti e poi il vicepresidente dell'AIA Narcisio Pisacreta ha dato il benvenuto ai partecipanti al raduno sottolineando come per restare nella famiglia degli arbitri è necessario impegnarsi al massimo e Massimo Manzolillo e Ivan Robilotta evidentemente lo stanno facendo visti anche i notevoli risultati raccolti lo scorso anno ottenendo la direzione di gare anche di particolare difficoltà e riuscendo a dimostrare una grande preparazione il raduno si concluderà il prossimo 27 luglio oggi terzo giorno di raduno tutti dedicati alla doppia seduta di allenamento nella mattina e nel pomediggio ed una quotidiana riunione tecnica ieri mattina gli arbitri sono stati sottoposti ai test atletici prima di trasferirsi presso l'aula dello Sport Italia quindi si intensificano gli impegni ed il duro lavoro anche per gli arbitri della sezione AIA di Sala Consilina che con il loro impegno hanno raggiunto importanti traguardi riuscendo anche ad essere tra i protagonisti di raduni di carattere nazionale e spesso protagonisti anche delle diverse dirette e delle visive tutto possibile grazie all'immenso lavoro fatto da Massimo Manzolillo e Ivan Robilotta che insieme a Manuel Robilotta stanno portando in alto il nome della sezione di Sala Consilina un impegno in cui credono e che svolgono sempre con grande serietà Ieri il secondo test amichevole per la Salernitana Vittoria Rotonda contro il Sarnano intanto Empereur in direzione Foggia mentre Fumata Bianca per Calaiò Questa mattina con la seduta in programma alle 9.30 la Salernitana ha iniziato la sua seconda settimana nel ritino di Sarnano la squadra agli ordini di Mister Sannino ieri mattina ha svolto un lavoro atletico seguito da esercitazioni tecnico-tattiche mentre al pomeriggio ha disputato la seconda amichevole stagionale contro la locale rappresentativa di Sarnano terminata con il risultato di 12-0 con il segno 4 volte coda 2 volte Ronaldo e Bovo e una rete a testa per Moro Donnarumma Caccavallo e Cenai ha i tre giorni di intenso lavoro per i Granata visto che giovedì sono attesi da un test leggermente più impegnativo l'avversario di turno sarà il Monopoli formazione di Serie D intanto comincia a muoversi qualcosa sul fronte mercato per quanto riguarda in entrata il DS Fabiani avrebbe convinto Emanuele Calaio a vestire Granata accordo con il fratello procuratore del ragazzo un ricco biennale per il bomber sul quale è forte anche l'interesse del Parma in uscita invece c'è una pesante offerta del Foggia solo che esce nessuna contropartita per Ampereuro che soddisferebbe sia la Salernitana che il ragazzo in questi giorni per entrambi è attesa la fumata bianca Foggia che ha chiesto anche Zito ma il ragazzo rifiuta la Lega Pro capitolo Rosina previsto nelle prossime ore l'incontro decisivo tra società e Catania gli etnei piace a cavallo ma l'esterno dovrebbe restare in Granata per quanto riguarda le altre trattative si resta i soliti nomi tuttavia le nuove proposte di questo calciomercato spuntano da quelle della nazionale Under 19 Vittorini del Pescara Minelli della Fiorentina e Favilli del Livordo e con lo sport si chiude il nostro telegiornale vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti